Semiramide, regina da Siria, è una figura di rilievo nell'antichità e viene descritta dettagliatamente da Diodoro Siculo nel suo secondo libro, della Biblioteca Storica. Diodoro si basa su un autore precedente, Cesia di Cnido, per raccontare la sua biografia. Secondo Diodoro, Semiramide nacque ad Ascalone, in Israele, da una relazione tra la dea d'Erceto e un giovane siriano, conferendole un carattere semidivino. Abbandonata dalla madre, fu salvata da Simma, governatore delle Mandri e del re d'Assiria, che la adottò e le diede il nome di Semiramide. Durante un assedio a Battra, Semiramide scogitò un astuto stratagemma per ottenere la capitolazione della città assediata, riuscendo a espugnare la cittadella capeggiando un gruppo di soldati. Così, Semiramide sposò Nino e divenne regina d'Assiria. Poco tempo dopo la morte del re Nino, Semiramide si prese cura personalmente del governo, in attesa che Ninia, il figlio concepito con il re, che all'epoca era solo un neonato, raggiungesse un'età adatta per salire al trono. Tutte e quattro le iscrizioni che si riferiscono a Sam Muramat confermano che la regina, vissuta in Assiria tra il IX e l'VIII secolo a Semiramide, regnante abile e dotata di leadership, è stata celebrata come promotrice di costruzioni straordinarie, come i giardini pensili di Babilonia. Sin dal Rinascimento, Semiramide è stata considerata la regina più famosa della storia dell'antica Mesopotamia. La vera identità di Semiramide è stata finora confermata da soli quattro testi, di cui due stelle e due statue dedicate a Nabu, il dio babilonico della saggezza e della scrittura, rinvenute nella città di Nimrud, una delle capitali Assire. Afferma che la leggendaria regina si suicidò gettandosi sul rogo secondo storici greci, la nuova regina si distinse per il suo fervore architettonico, cercando di emulare l'attività straordinaria del defunto Nino. Diodoro Siculo afferma che Semiramide non solo eresse la città, ma anche il palazzo reale, il tempio di Marduk e le sue impressionanti mura. È importante sottolineare che Diodoro, a differenza di altri autori greco-latini come Strabone, non attribuisce la costruzione dei giardini pensili una delle sette meraviglie del mondo antico alla regina Semiramide, ma al re Nabucodonosor secondo il sovrano che portò Babilonia al suo massimo splendore. Il mito di Semiramide ha evidenti parallelismi con altri racconti mitologici dell'antichità, come descritto dagli autori greco-latini come Diodoro Siculo. La sua origine semidivina, concepita da una dea e da un mortale, ricorda la storia del leggendario eroe Ercole. Il suo abbandono appena nata richiama un episodio simile dell'infanzia del re Sargon di Accad. Inoltre, la consultazione dell'oracolo di Amon e l'invasione dell'India sono imprese che secoli dopo realizzò anche il conquistatore e re macedone Alessandro Magno. Tuttavia, l'unica cosa che accomuna la figura storica di Samuramat e la leggendaria Semiramide è la loro straordinaria condizione di donne. Samuramat fu la prima donna nella storia della Mesopotamia a ricoprire un ruolo politico importante, forse come reggente durante l'infanzia di suo figlio Adad-Nirari III. Al contrario, la Semiramide presentata dagli autori greco-latini è la prima regina a portare a compimento imprese eccezionali.